La Toscana ha completato oggi un percorso di ulteriori fusioni nel territorio della regione. Si passa così da 276 comuni, già ridotti dall'inizio della legislatura, a 274. Quindi la Toscana ancora una volta va verso la semplificazione amministrativa, lo fa riducendo il numero dei comuni ma tenendo assolutamente conto della volontà espressa dalle popolazioni interessate. Il 1 gennaio 2018 inizierà ufficialmente la storia del nuovo comune di Laterina-Pergine-Valdarno. La fusione tra le due realtà contigue è stata approvata ieri dal Consiglio regionale toscano insieme all'Unione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba. Se per quanto riguarda i comuni isolani tutto è filato liscio, sulla fusione del neonato comune in provincia di Arezzo le opinioni dei consiglieri regionali si sono frastagliate. A far riflettere è soprattutto il dato risicato soltanto a 19 voti con cui il sì ha prevalso sul no nel comune di Pergine. Dopo il referendum a Pergine-Valdarno si è creata una situazione veramente allarmante. I cittadini hanno ritenuto che non c'è stato un processo partecipativo adeguato, tutto è stato fatto in estrema fretta, sospettano addirittura che questa fusione sia fatta per un collegio elettorale, questo col beneficio dell'inventario. Però voglio dire, su queste stanno facendo un esposto al Consiglio di Stato e un ricorso al Consiglio di Stato e un esposto impugnando la legge regionale. Chi sostiene la posizione del sì, sostiene come dice lei potevano andare, chi sostiene la posizione che questi due comuni non dovevano fondersi, si afferma che non c'è stata un'adeguata informazione su quanto si stava facendo. Quindi quando ci sono queste due tesi così contrapposte, io credo che la politica abbia il dovere di fare di carezza. Proprio perché, ripeto, è una normativa incompleta. Noi critichiamo veramente nel modo più forte il carattere antidemocratico della non possibilità di ritorno indietro. Per soli 19 voti di scarto tra il sì e il no non si potrà più tornare indietro al Comune di Pergine qualora vi fosse la insoddisfazione dei cittadini. Noi chiediamo quindi il rinvio in Commissione.